questo è un video per salutare delle mie fan come si suol dire Anna Sara Elisa e Laura questo video è per voi so che siete delle mie grandissime fan anche io sono fan di voi ci vediamo alla prossima ricordate che questo dalmone italiano è une ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao